Mi chiamo Alfredo. Mi chiamo Alessandro Danzieri, ho 42 anni. Sono Cinzia, ho 56 anni e sono un insegnante. Sono un pensionato di Brescia. Ho superato le mie paure e mi sono vaccinata. Io mi vaccinerò perché ci sono già passato, mi sono fatto 40 giorni di terapia intensiva. Io voglio vaccinarmi per non vedere più nessuno in pigiama. Tute da ginnastica, un bel rossetto e uscire. Io mi vaccino perché mio figlio e mia nuora non lo fanno e voglio salvaguardare i miei nipotini. Perché l'educazione passa per il buon esempio. Ciao. Buon vaccino a tutti. No, sono pazza e la signora che dice che...